Amico del Griglionino 2018 Giovanni, devo dire che io freddo bevo solo la spuma e che poi sapendo che c'era una situazione che si è portata avanti ho già bevuto i 128 mancava per gli americani e basta ecco l'anno che ho fatto anche la corsa e poi che volevo anche farmi vestire così ma ho ripetuto ma viene di chiedere un grande premio per adesso ecco si fa le notizie comunque vi ringrazio molto, è un territorio che mi piace molto questo vino verrà stappato con Aldo Giacomo che Giacomo è un bevitore spavitoso e Aldo anche se gli dà il gasolio spesso gli facciamo delle rene bianche e si dice assaggia questo è buonissimo l'assaggia ma sono veramente buone ma lui non lo distingue ma lui non lo distingue se c'è Giacomo Mino apprezzerà molto questo perché è un bevitore accadito lo conosci? no tipo l'hai visto bere di brutto no non è che si ubriano è un spettacolo per cui vi ringrazio ancora grazie a vostre aziende sono in Vespino avrò bisogno di un sacchetto per portare grazie veramente a tutti grazie